e continuare con le buone pratiche. Sai perché noi possiamo, dopo una settimana, 116 positivi, dei quali 63 non hanno sintomi, stanno bene e ne abbiamo solo 28 in ospedale. Sai perché? Perché l'igiene che al nostro popolo, i veneti, i cittadini italiani, la formazione culturale che abbiamo è quella di farsi la doccia, di lavarsi, di lavarsi spesso le mani, di un regime di pulizia personale che è particolare. Anche l'alimentazione, la pulizia, le norme igieniche, il frigorifero, le scadenze degli alimenti. Lei dice, ma cosa c'entra? C'entra perché è un fatto culturale. Io penso che la Cina abbia pagato un grande conto di questa epidemia che ha avuto, perché comunque gli abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o altre robe del genere. È un fatto anche di corredo, perché il virus non deve trovare un ambiente che diventa un substrato, il virus deve trovare pulizia, quasi in ospedale. Noi siamo un po' maniaci per questo, infatti diciamo sempre, i bambini ormai non mangiano più qualsiasi roba che cade per terra. Però noi abbiamo...